Col programma di storia dei superiori non si va di solito troppo avanti, alcuni finiscono con la seconda guerra mondiale, alcuni altri riescono ad arrivare agli anni 50, 60 per fotografare la guerra fredda e poco altro. Io negli ultimi anni sono riuscito con le mie quinte ad arrivare fino al 1991 e ne vado particolarmente orgoglioso, ma certo il tempo sempre stringere, non è certo facile andare troppo avanti. Eppure i fenomeni, gli eventi più vicini a noi sono forse quelli più rilevanti, quelli su cui converrebbe anche soffermarsi per capire il mondo di oggi. Uno di questi fenomeni, oggi particolarmente rilevante, riguarda la Russia. Come dicevo io arrivo risolto fino al 1991, cioè fino alla caduta dell'Unione Sovietica e del blocco comunista in generale, ma quello che è successo dopo è forse anche più importante oggi di quello che è avvenuto prima. Perché dopo c'è stato Jelzin, perché dopo soprattutto c'è stato Putin e anzi c'è ancora un personaggio controverso che è al centro degli scenari internazionali di questi ultimi anni, anche e soprattutto con la guerra in Ucraina, ma non solo con la guerra in Ucraina. Visto che di questa ultima guerra ne abbiamo parlato varie volte e nel momento in cui il registro è ancora drammaticamente in corso, bisogna anche capire da dove si arriva per arrivare a tutto questo, da dove si proviene. Si proviene da questa Russia che negli anni 90 e 2000 ha fatto certi passi in una specifica direzione, ha visto l'imporsi di questa figura appunto particolare che è quella di Putin, con un modo di gestire il potere altrettanto particolare. Oggi lo vediamo parlando della Russia dal 1991 ai giorni nostri. Andiamo a cominciare. Un socio di caffè nella tazza con la scritta andiamo a cominciare che mi fa sempre compagnia, come ci sono, come sempre a farmi compagnia anche i soliti compagni d'avventura. Certo, poi dentro sto i Batman, D'Andrea, il mostro peloso, il cuscino e un altro mosticciattolo che c'è qui, più non visti fuori inquadratura che sono anche due gatti che potrebbero balzare nell'inquadratura in ogni momento. E poi ci sono io. Mi chiamo Romano Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia, insegno nel liceo scientifico di Rovigo. E da tre anni, superati ormai abbondantemente, su questo canale realizzo quotidianamente, davvero ogni santo giorno, a parte Natale e Capodanno, dei video o dei podcast di storia di filosofia ed educazione civica che funzionano, mi dicono, piuttosto bene agli superiori per studiare, anche all'università per sostenere esami, preparare concorsi, ma poi soprattutto anche per chi è appassionato di storia, di filosofia e di queste materie affini, vuole documentarsi, sapere di più, approfondire, conoscere, eccetera. Come vi dicevo nella premessa, la lezione di oggi è una lezione di storia, ma di una storia che non si fa al liceo e spesso neppure all'università, bisogna dirlo. Una storia che potremmo definire ipercontemporanea perché riguarda i venti degli ultimi anni e anche degli ultimi mesi, per certi versi, perché vorrei parlarvi della Russia. La Russia dopo la caduta del comunismo, dopo la fine dell'Unione Sovietica, quindi dal 1991 ad oggi, per capire come siamo arrivati alla situazione anche attuale, con una Russia che è stata per molto tempo, negli ultimi anni, vicina all'Europa, a tratti, poi se ne è allontanata molto, con un regime che sembra democratico formalmente, ma non democratico nei fatti, o non del tutto sicuramente, a volte viene chiamata democratura perché è una strana via di mezzo tra democrazia e dittatura, insomma, c'è parecchio da dire. Ma partiamo ovviamente dal 1991, cose che in parte ho già detto nel video dove parlavo della caduta del comunismo e in descrizione ve lo linko, ma riapprofondiamo e riapriamo un attimo, richiamiamo alcuni temi di questo argomento. In 1991 l'URSS, l'Unione Sovietica, è davvero alle corde. Lo è tutto l'Est Europa, un po' perché il modello sovietico ha manifestato già dalla metà in poi degli anni Ottanta una certa stanchezza, una certa debolezza, una difficoltà che in realtà affondava le sue narici da molto tempo prima. Questa stanchezza e debolezza anche proprio produttiva dell'URSS era stata in parte nascosta da una politica di apertura, di disgelo, varata dal leader del PQS di quegli anni, che si chiamava Mikhail Gorbachev, che aveva anche aperto agli Stati Uniti. C'era stata un'ondata di ottimismo in generale, e questo aveva un po' mascherato le difficoltà dell'Unione Sovietica. Questa politica della perestroica doveva anche garantire qualche apertura parzialmente democratica, un minimo di pluralismo politico. Però appunto dal 1989 in poi tutto inizia a crollare molto rapidamente perché crolla il muro di Berlino proprio anche fisicamente, ma poi crollano anche i regimi comunisti dell'Est Europa, la Polonia con Solidarno, ce ne abbiamo parlato, la Cecoslovacchia con la rivoluzione di Velluto, ne abbiamo parlato, la Romania, eccetera, eccetera, eccetera. E per ultima crolla anche l'URSS proprio. Tra l'altro l'URSS, come ben sapete, ma meglio richiamarlo, era una federazione di repubbliche, no? Dove la Repubblica Russia, la Russia di per sé, era sicuramente la parte principale più voluminosa anche dell'Unione Sovietica, ma non c'era solo la Russia. L'Unione Sovietica prendeva la Russia, prendeva la Bielorussia, prendeva l'Ucraina, prendeva Estonia, Lettonia e Lituania, prendeva poi tutte le altre repubbliche verso l'Asia, insomma, era parecchio di più della sola e unica Russia. Però è chiaro che la Russia aveva un certo peso, la Russia aveva le città principali, Mosca, Leningrado, come era chiamata allora, e poi sarebbe diventata San Pietroburgo, eccetera. Ora, proprio in Russia, nel giugno del 1991, si tengono le elezioni locali, perché c'era chiaramente l'organismo sovranazionale, l'URSS, governata dal Partito Comunista dell'URSS, dell'Unione Sovietica, ma poi ogni singolo membro di questa Unione Sovietica, quindi la Russia, la Bielorussia, l'Ucraina, eccetera, eleggeva dei suoi presidenti locali. Ecco, nel giugno del 1991 si elegge il presidente russo e, un po' a sorpresa, le elezioni non vengono vinte dal candidato comunista, come era sempre stato, praticamente, fino a quel momento, ma da un candidato indipendente, diciamo, che si chiama Boris Yeltsin. Questo Yeltsin, in realtà, era stato anche lui membro del Partito Comunista per molto tempo, però era un membro, diciamo così, un po' dissidente, soprattutto nei mesi precedenti a questo 1991, aveva manifestato una certa critica verso il Comitato Centrale, e verso il PQS come istituzione. Quindi, sì, un comunista, anche lui, era stato comunista, ma sembrava disponibile a un cambiamento molto forte. Lui viene eletto nel giugno, tra l'altro poi, ad agosto, c'è un tentativo di colpo di Stato contro Gorbachev, che fallisce, e ne abbiamo parlato nel video sulla caduta del comunismo, e, in breve, Yeltsin diventa il loro protagonista politico, perché lui stesso scende in piazza contro i colpisti, guida un po' anche il popolo russo contro il tentativo dei colpisti di far fuori Gorbachev. Perché? Cosa sta succedendo? Sta crollando tutto il sistema comunista nell'est Europa? L'URSS sta sopravvivendo, ma con molta, molta fatica, e questi colpisti che piano hanno in mente rapiscono Gorbachev, ma non per far cadere il comunismo, ma per rinsaldarlo, perché i colpisti sono esponenti più conservatori del PQS. Odiano Gorbachev, perché ha fatto queste aperture, che stanno portando, sembra, alla caduta del sistema, e vorrebbero, invece, salvare il salvabile, bloccare tutto. Questi colpisti vengono, però, sconfitti, proprio più che da Gorbachev da Yeltsin, che guida, appunto, il tumulto popolare contro i colpisti, Gorbachev viene rilasciato, ma a dicembre, fine 1991, l'URSS ufficialmente si scioglie, perché ormai è evidente che non può più stare in piedi. E a quel punto ritornano le repubbliche precedenti, la Repubblica Russa, l'Ucraina, la Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, eccetera, la Georgia, e così via. Questo vuol dire che Yeltsin è il nuovo leader di questo grande territorio che è la Russia, leader ormai indiscusso. E Yeltsin vada, soprattutto dopo la caduta dell'URSS, una serie di politiche anche aggressive, dal punto di vista economico, volte a una forte liberalizzazione del mercato, che era quello che si stava facendo anche nell'est Europa, soprattutto in Polonia, con la caduta del comunismo si era iniziato a liberalizzare tutto. Cosa vuol dire? Fino a quel momento nel paese del blocco comunista e nell'URSS in particolare l'economia era stata un'economia pianificata, si diceva, lo ricorderete, comunque vi metto un link in descrizione sui primi piani inquinennali per capire di cosa si tratta. Cosa vuol dire economia pianificata? Che lo Stato decideva con dei piani cosa produrre, in che quantità produrle e dove produrle. Cioè tutte le aziende di fatto erano aziende di Stato praticamente e lo Stato le dirigeva, dava loro le cose da fare, le commesse, gli obiettivi da raggiungere, eccetera. Quindi lo Stato guidava ogni azienda e controllava ogni azienda, non c'era vera e propria iniziativa privata perché era lo Stato dall'alto che organizzava il tutto. Yeltsin invece liberalizza. Cosa vuol dire? Che tutte quelle aziende che fino a quel momento erano state di proprietà statale vengono vendute, vengono buttate sul mercato, vengono affidate alla libera impresa. Con quale obiettivo? L'obiettivo sarebbe quello intanto di tagliare i ponti col vecchio sistema comunista che è reputato responsabile del fallimento, della crisi, di mille problemi, ma soprattutto creare una sorta di circolo virtuoso per cui il libero mercato dovrebbe favorire gli investimenti, dovrebbe favorire il miglioramento dell'industria, dovrebbe favorire un po' alla volta anche l'aumento dei salari e un mercato più intraprendente, più frizzante, più vivo. I russi come i polacchi, come i cechi, come i tedeschi dell'est, eccetera, dicono finora ci hanno fatto vivere con economie pianificate e siamo rimasti sostanzialmente poveri, i consumi delle famiglie erano molto bassi, mentre in occidente si sta meglio se più ricchi, tutti sono più ricchi. Pensate alla Germania con Berlino tagliata a metà dove Berlino est tendenzialmente piuttosto povera, Berlino ovest che vive in una certa agiatezza e in una certa ricchezza. Vogliamo diventare ricchi come gli occidentali e quindi il libero mercato perché loro hanno avuto il libero mercato e si sono arricchiti. Noi non l'abbiamo avuto e siamo rimasti poveri. Con il libero mercato miglioreremo. Questo è molto semplicisticamente l'idea. In realtà le cose non vanno così, sono molto più complesse di così. Perché? Perché ovviamente questa improvvisa e forte e rapidissima liberalizzazione delle aziende provoca in realtà un effetto deleterio su tutta l'economia russa e non solo russa anche in certe parti dell'est Europa ma soprattutto in Russia. Perché? Perché ovviamente le aziende russe non sono in grado di competere con le aziende straniere. Se tu liberalizzi, apri le frontiere e permetti lo scambio di merci e fai arrivare in Russia che so, la Coca Cola e fai arrivare in Russia i prodotti occidentali. I prodotti occidentali sono molto migliori in questo momento di quelli russi di quelli dell'est Europa. Non c'è storia. Quindi cosa succede? Che i prodotti occidentali iniziano a vendere, i prodotti locali non vendono niente, le fabbriche falliscono e iniziano a licenziare. Ovviamente. E soprattutto l'effetto più deleterio di questa liberalizzazione dei prezzi che si vede quasi subito è una fortissima inflazione. Una, anzi, iperinflazione. L'inflazione decolla ai ritmi vertiginosi mai visti prima. Perché? Un po' per questo improvviso apertura del mercato a cui la Russia non era minimamente pronta. Un po' anche perché la Russia ha un certo debito pubblico che il governo decide di cercare di ridurre e di appianare stampando carta moneta. Come sapete, uno degli effetti che può accadere, anzi, accade quasi sempre quando si inizia a stampare carta moneta è l'inflazione. Perché anche il denaro segue la legge delle romande dell'offerta. In descrizione vi metto anche un link. E quindi più denaro circolante c'è più cala il valore reale del denaro e quindi si genera inflazione. Quindi cosa vuol dire inflazione? Molto banalmente per chi non mastica molto i termini economici vuol dire che i prezzi salgono. I prezzi di tutti i beni iniziano a salire. E questo vuol dire per i beni di lusso vuol dire anche per i beni di primare necessità, le bollette, il pane, eccetera. Ovviamente si era fatta questa forte ondata di liberalizzazioni dicendo ah finalmente saremo ricchi e in giro di pochi mesi ci si trova peggio di prima. In effetti i primi mesi dopo questo crollo dell'URSS quindi 1992 e 1993 sono anni durissimi per l'economia ex sovietica e ormai russa. Le liberalizzazioni hanno creato un libero mercato addirittura privo di regole e privo soprattutto di tutele in cui chi è in grado di essere spregiudicato magari fa anche grandi affari si arricchisce molto comprando a prezzi relativamente bassi delle imprese che prima erano statali ma molti falliscono molti non sono pronti al mercato non sono pronti alle regole del mercato soprattutto nel mercato che all'estero è forte e in Russia non è per niente forte quindi le aziende estere quelle soprattutto dell'occidente sono molto più preparate alla concorrenza di quanto non siano le imprese russe locali c'è una grande data di fallimento come dicevo nonostante poi se ci si pensava bene la Russia avesse ottime competenze dal punto di vista diciamo ingegneristico dal punto di vista tecnologico perché certo l'industria russa aveva i suoi difetti però nel campo della preparazione scientifica di base nel campo proprio ingegneristico e dei tecnici che lavoravano in industria russa la Russia non aveva niente da invidiare a quasi nessuno era uno dei paesi col più alto tasso di alfabetizzazione tecnologica del mondo ma quello che mancava erano le competenze appunto economiche legate al libero mercato dove non si erano potute sviluppare a causa proprio di questo controllo statale del mercato e questa economia pianificata che aveva dominato gli 70 anni o 75 anni precedenti quindi una vera e propria impreparazione al mercato di cui pagano lo scotto le aziende ma soprattutto pagano lo scotto ancora di più i lavoratori con questa grande ondata iperinflativa a rimetterci sono soprattutto ovviamente i lavoratori in reddito fisso perché come ben sapete se il prezzo dei beni inizia a salire chi è che ci rimette non tanto i commercianti che alzano i prezzi e magari prendono anche più soldi ma chi prende uno stipendio fisso i lavoratori gli operai gli impiegati quindi che prendono lo stipendio fisso prendono sempre ipotizziamo mille euro al mese se i prezzi salgono con quei mille euro comprano sempre meno cose e si sentono in difficoltà quindi lavoratori a reddito fisso e anche i pensionati tant'è vero che soprattutto dagli anziani si genera un fortissimo sentimento un po' alla volta di nostalgia verso quello che era stato il comunismo il comunismo aveva avuto mille difetti però la pagnotta a casa la portavamo adesso in questo libero mercato sembra anche di no in effetti molte famiglie vedono peggiorare il loro livello di vita le loro condizioni di vita il loro status la russia quando era parte dell'unione sovietica aveva avuto i suoi grossi problemi a garantire un tenore di vita a livello dell'occidentale per le famiglie ma adesso questo tenore di vita sembra addirittura peggiorare in più bisogna dire anche questo saltano non solo le tutele del mercato del mercato pianificato eccetera ma saltano anche le tutele di quello che chiameremmo lo stato sociale l'URSS comunista l'URSS pre 1991 aveva tutto un sistema di tutele molto forte per i lavoratori per carità i lavoratori vivevano in una condizione non certo ricca e florida ma avevano tutta una serie di servizi che erano offerti sostanzialmente in modo gratuito dallo stato proprio che lo stato controllava tutta l'economia quindi controllava certo le fabbriche controllava anche le scuole la sanità i servizi pubblici eccetera i trasporti e così via quindi una famiglia che magari non aveva tanto però aveva una serie di servizi che erano tutto sommato garantiti la liberalizzazione molto forte e quindi anche la privatizzazione dell'industria che a volte fornivano queste tutele porta anche a famiglie sempre meno tutelate che non hanno più il salvagente che non hanno più il sistema che li supporta nei momenti di crisi insomma c'è una vera e propria depressione economica così viene chiamata dovuta a scarsi investimenti crollo della domanda interna inflazione e famiglie con una povertà molto molto alta a cui tra l'altro lo Stato risponde in questa prima fase in maniera peggiorativa in che senso? un po' perché si è messo a stampare carta moneta per pagare il debito e questo ha aumentato anche l'inflazione un po' perché per mettere a posto i conti inizia a varare anche delle politiche di austerità inizia anche a fare dei tagli anche lo Stato è in difficoltà anche lo Stato sta finendo i soldi e quindi taglia taglia i servizi taglia quel poco che era rimasto insomma si innesca invece di quel circolo virtuoso che si sperava di poter innescare con la liberalizzazione del mercato si innesca un circolo vizioso in cui tutto sembra remare contro tutto sembra andare sempre peggio fino al 1993 quando tra l'altro in questa spirale sempre più negativa scoppia anche una crisi costituzionale cosa successe in questo 1993 la situazione in Russia era molto tesa per via di questi problemi economici ingenti vi ho detto l'URS car alla fine del 91 il 92 e l'inizio del 93 sono anni difficili per la Russia con un drastico calo del genere di vita ma anche un drastico calo della speranza di vita cioè proprio guardando le statistiche un calo della età media di vita e soprattutto un drammatico aumento della povertà le stime della banca mondiale dicono che nell'ultimo periodo sovietico le famiglie in situazioni di estrema povertà in Russia erano attorno all'1,5% quindi un numero per carità neppure bassissimo ma certo non così alto mentre appunto nel 93 si è arrivati attorno al 40% delle famiglie russe in situazioni di estrema povertà capite che è una situazione davvero critica e questa problematicità dell'economia si riflette anche sulla politica perché Yeltsin è il leader è il presidente è quello che è in mano di fatto il potere esecutivo ma si scontra risolutamente col Parlamento la Duma che è il Parlamento russo la Duma dove le opposizioni Yeltsin iniziano a farsi sempre più vehementi Yeltsin è l'uomo delle privatizzazioni è l'uomo che ha voluto questo libero mercato e che insiste per queste privatizzazioni d'altra parte il Parlamento siedono soprattutto quei partiti che invece protestano contro queste privatizzazioni e l'esito che hanno avuto in particolare il partito comunista continua a farsi sentire come vi dicevo la nostalgia per il comunismo inizia a farsi abbastanza rilevante perché è inevitabile in questo anno e mezzo di post comunismo la situazione è di fatto peggiorata e le famiglie non stanno meglio come speravano stanno peggio quindi c'è a un certo punto un vero e proprio braccio di ferro tra Yeltsin nel Parlamento Yeltsin nella Duma soprattutto i partiti di opposizione nella Duma un braccio di ferro che porta a una crisi a un quasi si va vicino a una guerra civile nel 93 perché Yeltsin a un certo punto davanti alla opposizione del Parlamento davanti al tentativo di fare ostruzionismo della Duma decide di sciogliere le camere e indire un po' nuove elezioni ma soprattutto anche varare una nuova costituzione che dovrebbe riformare la Russia in senso ancora più presidenziale visto che voi mi mettete i bastoni in tale ruote caro Parlamento io propongo una costituzione di stampa maggiormente presidenziale ma dovrò rafforzare i poteri del Presidente c'è una forte protesta e sono anche scontri armati la protesta si chiude con l'ordine di Yeltsin all'esercito di andare al Parlamento e arrestare un gruppo di parlamentari vengono arrestati quindi anche uno sconto istituzionale molto forte ovviamente però alla fine Yeltsin è il vincitore di questa tra virgolette battaglia tra Parlamento tra Duma e Presidente e la nuova costituzione viene varata appunto nel 1993 approvata tramite un referendum e una costituzione appunto di stampo presidenziale quando oggi diciamo che Putin gode di un grande potere certo Putin se l'è saputo ricavare se l'è saputo creare ma le premesse vengono anche da qui quando gli equilibri diciamo costituzionali tra Parlamento e Presidente si sono con Yeltsin inalterati in favore del Presidente davanti a una situazione certo particolare e drammatica quindi le opposizioni vengono sostanzialmente messe a tacere Yeltsin ha in questo momento un grande appoggio anche dall'Occidente perché è anche l'Occidente che preme perché la Russia si modernizzi si occidentalizzi apre il libero mercato convinto anche in buona fede in parte che questo libero mercato porterà la Russia certo dopo qualche difficoltà a migliorare a crescere a entrare nel gioco democratico a evolvere verso un paese di stampo occidentale gli anni dopo il 1991 sono in generale in tutto il mondo anni di grande fiducia soprattutto verso il modello di sviluppo occidentale siamo stati per 50 anni i due blocchi il blocco filoamericano e il blocco filo sovietico il blocco liberale capitalista e il blocco socialista da economia penificata quello socialista è crollato da solo è imploso quindi non era fattibile non andava a nessuna parte non portava a nessuna parte è rimasto il blocco liberale capitalista che invece ha prosperato che invece è cresciuto si è arricchito eccetera allora sembra quasi a certi osservatori di poter dire aminto il blocco liberale capitalista quello è il modello di sviluppo che tutti dovrebbero perseguire perché garantirà democrazia libertà felicità a tutti questa ideologia questo ottimismo anche a volte esagerato nei confronti di questo modello di sviluppo porta in realtà in Russia a problemi drastici perché esportare un modello dall'oggi al domani in uno stato che non è pronto che non è abituato che non ha i sistemi gli anticorpi per reggere a un modello di questo tipo può provocare anche grossi problemi e infatti sistemata la crisi politica la crisi costituzionale all'interno di Helsinki si trova però ad affrontare un nuovo problema che è quello del separatismo cosa succede? intanto vi ho detto certo l'Unione Sovietica è crollata ed era una federazione di tante repubbliche era rimasta la Russia ma la Russia a sua volta non era uno stato unitario in maniera occidentale come dicevamo noi cioè uno stato centrato unico tutto uguale ma è uno stato talmente grande che in realtà è una federazione di stati si chiama non a caso federazione russa cioè ci sono tanti staterelli che già all'epoca dell'URSS facevano parte della repubblica russa ma che in realtà volevano un parziale autonomie e non si sentivano pienamente russi ecco nel 1992 quindi prima di questa crisi costituzionale Yeltsin a nome della Russia aveva tramite lunghe trattative firmato un trattato di federazione che metteva insieme tutte queste piccole regioni diciamo russe che sentivano in parte autonome ma che accettavano di federarsi in questa federazione russa quante erano queste regioni erano tante erano 88 quindi un numero piuttosto alto ma in realtà di queste 88 regioni 86 avevano accettato il patto questo trattato di federazione quindi si sentivano parte della Russia eccetera poi Yeltsin aveva anche garantito alcune autonomie locali tasse diversificate eccetera quindi parziale autonomie le avevano avute era proprio una federazione però di questi 88 due si erano rifiutati di firmare il trattato quindi 86 sì due no e chi erano questi due paesi queste due regioni che non sottostavano tanto a Mosca uno era una piccola regione che poi trovava un accordo poco dopo con Yeltsin era il Tatarstan nome strano ma è la regione di Kazan se avete presente la squadra di calcio del Rubin Kazan ecco la regione è quella lì che effettivamente tramite un accordo a parte nel 94 riuscì a firmare questo accordo quindi dopo un paio di anni trattative arrivò anche questo Tatarstan alla firma l'altra che invece non accettò questo trattato era la Cecenia la Cecenia avete già sentito parlare perché scoppiano due guerre in Cecenia si parla molto di terrorismo Ceceno perché perché la Cecenia che è una regione appunto nell'ambito dei vecchi confini della Russia non voleva saperne difederarsi con la Russia voleva l'indipendenza voleva l'autonomia in realtà in Cecenia c'erano forze diversificate c'erano gruppi autonomisti piuttosto forti la maggior parte probabilmente la maggioranza voleva staccarsi dalla Russia ma c'erano anche gruppi minoranze filorusse che invece volevano rimanere attaccate alla Russia inizialmente la Cecenia si rifiuta di firmare questo trattato c'è un presidente locale antirusso che anzi dichiarla l'indipendenza della Cecenia dalla Russia c'è qualche mese di chi va là trattative tentativi fino a quando appunto nel 1994 la Russia non decide di intervenire chiamata in soccorso dai filorussi ceceni che dicono qua questi non vogliono sapere l'età della federazione aiutateci Yeltsin decide di dire di sì siamo ripeto nel 1994 poco dopo la risoluzione di quella crisi costituzionale del 93 Yeltsin manda 40.000 uomini l'esercito per ridurre l'obbedienza a questa repubblica secessionista la Cecenia stava cercando di fare la secessione dalla Russia e non si può 40.000 uomini che dovrebbero avere la meglio su questa piccola regione che è una regione appunto piccola non particolarmente ricca insomma non dovrebbe essere difficile teoricamente per la Russia impadronirsene in realtà questa prima guerra cecena è un mezzo fallimento anzi senza mezzo i russi per carità attaccano la capitale Grozny città famigerata proprio per anche le stragi che si compiono ci sono duri scontri che partono anche alla morte di migliaia e migliaia di civili locali si stima anche 20.000 25.000 morti locali però in realtà nonostante i grandi attacchi russi il grande sforzo russo sono i cecena da averla meglio tramite azioni di guerriglia tramite scontri eccetera i russi vengono sostanzialmente sconfitti e umiliati in più occasioni tant'è vero che Yeltsin questa guerra durerà 2-3 anni poi nel 96 viene rieletto presidente della Russia tra l'altro in elezioni abbastanza contestate perché qualcuno lo accusa di brogli e si accusano anche gli Stati Uniti di aver fatto pressioni perché vincesse Yeltsin contro il suo oppositore che era un candidato comunista quindi Yeltsin vince ma non si sa bene quanto sia davvero il consenso interno in Russia in parte c'è ma viene sostenuto anche dal mondo occidentale in qualche misura e però dopo questa elezione nel 97 Yeltsin decide di firmare un Trattato di Pace con i Ceceni che di fatto provoca il ritiro dei russi e l'autonomia Cecena per il momento i Ceceni sembrano aver vinto e sembrano essersi staccati dalla federazione russa ma questa guerra Cecena è un fallimento per Yeltsin anche per il suo prestigio personale in ogni caso questi anni sono stati difficili riuscito a sempre farsi rileggere ma il suo consenso sembra agli sgoccioli e infatti Yeltsin va alla ricerca di nuovi primi ministri che possano lui è il presidente ma governa anche tramite un primo ministro cerca primi ministri che possano dargli nuovo slancio nuovo smalto ne alterna parecchi fino a quando non trova un primo ministro efficace in Putin cosa succede come si arriva a Putin beh la cosa si evolve molto rapidamente sul finire degli anni 90 a un certo punto Yeltsin ha come primo ministro un certo Pimakov che ha anche un certo ascendente sull'opinione pubblica sembra un personaggio in crescita in ascesa mentre Yeltsin sembra in decadenza ormai sul finire della sua carriera politica e però in mezzo a questa fase c'è anche una grossa crisi di nuovo finanziaria e economica proprio nel 1998 e Yeltsin approfitta per cacciare Pimakov un po' preoccupato anche dalla sua ascesa politica la sua ascendente sull'opinione pubblica c'è un veloce giro di altri capi del governo fino a che appunto nel 1999 Yeltsin non nomina come capo del governo Vladimir Putin quindi Yeltsin è sempre il presidente della Repubblica Putin è il suo primo ministro è il suo braccio destro diciamo il suo uomo che fa le cose chi è questo Putin? in quel momento nel 99 stiamo parlando di 25 anni fa nel 99 Putin è quasi anzi è un perfetto sconosciuto nel mondo politico russo era stato fino a quel momento direttore dell'FSB che era il servizio segreto di fatto l'erede del KGB del vecchio servizio segreto sovietico che poi era stato sciolto con la caduta dell'Unione Sovietica era stato trasformato in un altro servizio però lui era il direttore di questa agenzia governativa lui stesso aveva fatto carriera all'interno del KGB prima ancora la caduta del muro e poi successivamente quindi era un uomo di servizi segreti sostanzialmente un funzionario uno che non si era mai visto tanto che non aveva avuto certo una gran carriera politica anzi per niente non un personaggio di spicco però Putin nonostante questa partenza un po' ingloriosa da Yeltsin riprende appunto nel 1999 inizio 2000 perché ci sono a fine 99 una serie di attacchi terroristici in Russia che vengono imputati ai ceceni al terrorismo ceceni perché i ceceni si sono dichiarati indipendenti sembrano avercela fatta ma in realtà non sono ancora riconosciuti la lotta non è del tutto conclusa con la Russia e Putin accusa i ceceni di aver fatto attentati a Mosca questo dà il via a una nuova ondata di scontri con la Russia che manda di nuovo l'esercito in cecenia stavolta però va molto meglio l'esercito russo più risoluto più forte per precisa poi anche i volontari Putin penetra a Grozny la capitale e sembra riprendere il controllo del paese ci vuole un po' di tempo la guerra finisce definitivamente dieci anni dopo nel 2009 però già dopo pochi mesi si vede che i russi sono andati molto meglio questa volta hanno ripreso sostanzialmente il controllo della situazione questo dà a Putin un grande vantaggio proprio anche propagandistico perché da perfetto sconosciuto è sembrato l'uomo finalmente che poteva risolvere la situazione risolvere i problemi della Russia anche con un forte orgoglio nazionale perché ovviamente Putin punta in questo momento sulla forza militare non è in grado di risolvere i problemi economici in questo momento d'altronde i problemi economici sono grossi tenterà di farlo più avanti non è in grado di farsi notare per abilità politiche che magari non ha neppure troppe perché è un perfetto sconosciuto ma mostra di essere risoluto di poter mettere una pezza a tutti gli errori fatti anche da Yeltsin che è il suo presidente in questo momento in effetti Yeltsin più o meno in quel periodo annuncia tra l'altro il suo ritiro ormai la sua parabola è in fase calante vi ho detto è praticamente vicino alla pensione nel 2000 non solo annuncia sul ritiro ma annuncia di vedere bene come suo possibile erede proprio Putin che è primo ministro ma si candida a diventare presidente della Repubblica carica più importante perché vi ho detto la costituzione approvata da Yeltsin è una costituzione di stampo presidenziale quindi che dà tanti poteri al presidente effettivamente si tengono le elezioni nel 2000 marzo 2000 e Putin vince vince con uno scatto abbastanza ridotto ottiene il 53% dei voti quindi sì maggioranza anche importante per uno che è appena sceso sull'arena politica ma diciamo non così netta tenete conto che 4 anni più tardi nel 2004 quando si andrà a rieleggere otterrà il 71% dei voti quindi da 53 al 71 ce ne passa segno che negli anni successivi Putin conferma quanto aveva fatto intravedere convince i russi in effetti perché c'è anche questa crescita negli anni successivi perché messo da parte questa e ritengo un'ante di Yeltsin che poi muore poco dopo Putin diventa davvero l'uomo forte della Russia l'uomo forte perché sa fare le guerre o almeno sembra saper fare le guerre e le conduce in porto ma anche perché nei primi anni 2000 la Russia diventa protagonista di un boom economico dopo le crisi economiche degli anni 90 i problemi enormi che ha avuto l'economia russa le liberalizzazioni selvagge e poi anche la crisi finanziaria del 98 c'è un vero e proprio boom delle materie prime soprattutto non solo i russi ma in tutto a livello globale e la Russia è ricca di materie prime il gas come sapete ancora oggi il gas rappresenta una delle risorse fondamentali della Russia con Gazprom che è questa azienda quotatissima importantissima ricchissima adesso con le sanzioni un po' più in difficoltà ma fondamentale per l'economia sovietica scusate russa perché non sono più sovietici e poi oltre al gas il petrolio e altre materie prime di cui la Russia è ben dotata questa nuova attenzione per la materia prima porta a un deciso rilancio dell'economia tant'è vero che la Russia insieme ad altri paesi come il Brasile come l'India come la Cina e come Sudafrica diventa uno dei paesi trainanti dell'economia mondiale uno dei paesi con la più grande e netta crescita economica dopo tanti anni di difficoltà tant'è vero che questi paesi poi daranno vita ai cosiddetti BRICS dalla sigla proprio delle iniziali di questi paesi BRICS sta per Brasile Russia India Cina Sudafrica sono i paesi che crescono più velocemente mentre l'Occidente è comunque ricco vive comunque fino a 2007 anni di ripresa economica ma questi paesi crescono ancora più in fretta e sono paesi che fino a quel momento erano stati esclusi dal mondo occidentale Brasile è in Sudamerica la Russia è in Asia il Cina è ancora più in Asia l'India è in Asia il Sudafrica è in Sudafrica ovviamente quindi lontani dai soliti circoli europei o americani e però sono paesi che vogliono dire la loro tutto bene quindi la Russia cresce il PIL cresce in maniera forte il tenore di vita delle famiglie finalmente un po' migliora e si gode di questo boom economico Putin amato confermato votato tutto bene tutto bene non tanto cioè alcune cose bene sicuramente l'economia meglio si respira eccetera però Putin inizia a provare non solo di essere un politico abile risoluto e fortunato in fondo e anche in economia ma anche un politico sperigiudicato perché soprattutto attorno alla metà degli anni 2000 iniziano a emergere forti accuse riguardo alla gestione del potere da parte di Putin accuse di scarsa trasparenza di scarsa scarsa democrazia e addirittura di condotte veramente irregolari sia della guerra in Cecenia dove l'esercito russo viene accusato di crimini importanti conosciuti e saputi dallo stesso Putin questa è l'accusa sia poi soprattutto degli oppositori politici vi ho detto nel 2000 si è imposto con un margine tutto sommato ristretto nel 2004 è stato eletto più grandemente però sembra anche che Putin sia molto refrattario alle opposizioni politiche ci sono attorno nel 2005 2006 anche delle morti diciamo così eccellenti preoccupanti perché muoiono in circostanze molto misteriosi alcuni oppositori politici ad esempio muore una giornalista famosa e purtroppo in suo caso molto discusso Anna Politkovsvaia spero averlo letto abbastanza bene anche se il mio russo è molto difficile che aveva pubblicato una serie di articoli molto critici nei confronti di Putin e di misteri di inserbiamenti da parte del governo di Putin muore viene uccisa questa donna poi lì chiaramente è stata uccisa da persone a cui aveva pestato i piedi quello che non si sa è se l'ordine sia partito da Putin o sia stato un ordine di qualche altro esponente del potere russo però insomma i sospetti su Putin sono piuttosto forti perché questa giornalista era fortemente critica nei confronti particolari di Putin ma poi iniziano anche le morti sospette di ex agenti del KGB militari eccetera a volte in Russia a volte anche al di fuori della Russia ad esempio l'ex colonnello del KGB Alexander Litvinenko viene ucciso con radiazioni da Polonio avvelenamento da radiazioni di Polonio e altri casi se ne enumerano nel corso degli anni suicidi misteriosi morti sospette chiaro che non c'è mai una prova risolutiva decisiva per capire quale sia il coinvolgimento di Putin ma sicuramente chi critica il governo rischia di fare una brutta fine diciamola così i casi iniziano a moltiplicarsi e si capisce che in qualche misura l'opposizione politica in Russia è molto deficitaria è impossibilitata ad agire è in grave difficoltà ad agire tra l'altro nel 2008 si fanno nuove elezioni politiche perché le elezioni per il Presidente sono ogni 4 anni 2000 primo mandato di Putin 2004 secondo mandato secondo la Costituzione Putin non potrebbe fare un terzo mandato perché il limite è due mandati consecutivi infatti nel 2008 Putin decide di non candidarsi proprio non può farlo proprio per stando alla Costituzione ma di candidare il suo brazzo destro Medvedev che era stato suo primo ministro mentre lui era Presidente della Repubblica questo Medvedev che trovate anche in questi mesi perché continua è un fanatico di Twitter Twitter ha un sacco di cose a volte completamente fuori dal mondo sulla guerra Medvedev si cade da come Presidente viene eletto e nomina Putin come Primo Ministro cioè i due si scambiano i ruoli fino a quel momento era stato Putin Presidente e Medvedev Primo Ministro almeno per un periodo poi fanno un'inversione Medvedev Presidente Putin Primo Ministro e poi si ritornerà di nuovo Putin Presidente il Medvedev Primo Ministro o comunque funzionario importante del governo segno che anche l'elezione del 2008 in realtà Medvedev fa un po' rapporta da prestanome diciamo di Putin il vero detentore del potere Putin che continua nonostante la Costituzione gli impediscono un mandato a governare ulteriormente è presente che nel 2008 viene eletto Medvedev nel 2012 si ricari da Putin e ottiene questa volta il 64% dei voti quindi percentuali alte non alte come nel 2004 qualche oppositore politico c'è c'è qualche protesta ma Putin continua a tenere in mano le regine del potere mettendo a silenzio magari gli oppositori più pericolosi facendo morire qualcuno pare non so se lui direttamente o qualcun altro ma queste persone muoiono e in ogni caso anche controllando il dissenso tra l'altro durante il mandato di Medvedev la Costituzione viene riformata per cui le elezioni non sono più ogni 4 anni ma ogni 6 quindi Putin sembra volesse garantire un mandato più lungo per poter governare in più lungo termine tenete conto 2018 6 anni 2024 tra l'altro però bisogna dire anche un'altra cosa nel frattempo con queste elezioni di elezione eccetera siamo dimenticati un po' la politica estera perché se la politica interna va bene per Putin nel senso che l'economia va bene il dissenso viene sedato messo a silenzio la politica estera come va? dopo la guerra con la Cecenia che aveva dato il primo slancio a Putin vi ho detto va dal 1999 al 2009 già nel 2008 quando la guerra in Cecenia sta avvolgendo al termine ma non è ancora definitivamente conclusa Putin dà segno di interessi in altre zone la politica estera ha iniziato nel 2008 poi nel 2015 e poi oggi a delinearsi in maniera molto più chiara qual è l'intento di Putin dopo essere ritornato a crescere economicamente e aver creato uno stato relativamente ricco Putin vuole sfruttare questa nuova relativamente perché non è per dire a livello dell'Italia della Germania però insomma inizia a competere Putin vuole anche dare alla Russia un ruolo geopolitico fino a che c'era stata l'Unione Sovietica la Russia aveva avuto un ruolo geopolitico fondamentale i due grandi poli della geopolitica mondiale erano stati Stati Uniti e uno dei sovieti che abbiamo detto Stati Uniti che dominavano sull'Europa occidentale su pezzi di altro mondo l'URSS che dominava sull'Europa occidentale su pezzi di altro mondo con il comunismo crollata l'URSS il ruolo geopolitico della Russia è stato completamente piagato frustrato per anni la Russia non ha avuto nessuna influenza adesso Putin vuole riconquistare l'unifluenza russa soprattutto sulle repubbliche ex sovietiche Putin è convinto che quelle repubbliche che avevano fatto parte dell'URSS prima della caduta dell'URSS vadano non dico riconquistate ma rimesse nell'orbita russa bisogna che la Russia controlli in qualche misura diriga sia il paese guida di queste ex repubbliche sovietiche è un progetto fattibile è inni nel senso che alcune ex repubbliche sovietiche sono imaste in buoni rapporti con la Russia quindi tutto sommato un'influenza russa è possibile anche espanderla anche per via economica magari con gli uti economici eccetera altre repubbliche invece si sono allontanate parecchio dalla Russia anche perché bisogna dire questo è successo un po' quello che succede in parallelo anche nell'ex Jugoslavia quello che succede in tutte quelle federazioni dove c'è uno stato che gestisce il potere e gli altri che gli vengono affidati quando è crollata l'URSS tutte le altre repubbliche hanno detto non vedevamo l'ora di staccarsi dalla Russia Estonia, Letonia e Lituania non vedevano l'ora di staccarsi dalla Russia l'Ucraina non vedeva l'ora di staccarsi dalla Russia in certe zone eccetera perché a volte queste repubbliche erano state messe insieme ai russi un po' a forza per 70 anni e avevano un po' patito di questa assimilazione forzata di questa integrazione forzata con la Russia quindi queste repubbliche un po' si erano allontanate per motivi loro dalla Russia per motivi culturali etnici e così via e un po' magari quelle anche della zona più europea avranno iniziato a guardare verso l'Europa occidentale tenete presente che sono anche gli anni questi anni 2000 in cui l'Unione Europea inizia ad allargarsi ad est quindi a prendere dentro paesi che prima erano comunisti che si stanno dopo anche loro aver avuto problemi economici stanno crescendo e chiedono di entrare nel mercato unico europeo che dovrebbe garantire ricchezza no? c'era dire che poi la Germania fa investimenti la Francia fa investimenti insomma non solo anche gli Stati Uniti con la Nato parallelamente a questa espansione dell'Unione Europea sembrano espandersi anche loro in quelle zone perché questi paesi chiedono l'ingresso all'Unione Europea e alla Nato molto spesso perché chiedono l'ingresso nella Nato perché hanno paura che i russi prima o poi si affaccino perché pensate ai polacchi i polacchi sono stati sotto i russi per tanto tempo non li hanno mai amati i russi perché i polacchi sono cattolici i russi erano comunisti erano nati o comunque sono ortodossi perché i polacchi volevano la loro indipendenza i russi li tenevano stretti per mille motivi i polacchi quindi paura che i russi possano farsi avanti lo abbiamo visto anche in questi mesi chiedono di entrare nell'Unione Europea chiedono di entrare nella Nato e così altri paesi quindi questa idea di Putin di espandere i confini della geopolitica russa è un'idea complicata da realizzare come fare visto che poi in questi paesi spesso c'è una minoranza filorussa perché ci sono anche popolazioni di origine russa che parlano russo ma di solito sono minoranze non sono la maggioranza del paese quindi si fa fatica a tenerli a vederli scappare come fare con l'economia ma a volte si può fare ma certo la Russia sta crescendo ma non può competere con i soldi tedeschi con i soldi dell'Unione Europea è più attrattivo dell'Unione Europea a questo punto di vista con le materie prime certo i gastotti servono anche a quello a tenerli uniti col gas e qualche strategia di questo tipo la Russia la metterà in piedi vi do il gas a poco prezzo a patto che vi stringiate a noi ma a un certo punto Putin si convince che la strategia è migliore a usare le armi questa crescita economica della Russia legata soprattutto alle materie prime porta in realtà a grandissimi investimenti nel settore bellico è vero che la Russia vede anche l'industria leggera un po' migliorare eccetera ma se guardiamo anche la quota del pil russo destinata al settore bellico è uno dei paesi anzi forse il paese sicuramente in Europa con la quota più alta di soldi destinati all'esercito perché? perché la politica di Putin diventa una politica di potenza di fatto queste repubbliche ex sovietiche devono entrare nella nostra orbita se vogliono entrarci pacificamente bene se no li andiamo a prendere con le armi come abbiamo fatto in Cecenia Putin ha fatto la sua forza politica proprio con questa strategia di una politica essere aggressiva si deve dimostrare l'uomo forte l'uomo che guida l'esercito l'uomo che esalta anche il nazionalismo russo e che quindi conquista tramite le guerre e questo lo si vede appunto già nel 2008 quando dicevo la guerra in Cecenia sta finendo ma non è ancora finita quando scoppe un'altra guerra in Ossezia del sud una delle repubbliche ex sovietiche che adesso si è diventata indipendente ma che verso cui la Russia ha messo gli occhi alla Georgia la Georgia aveva in particolare una regione che si chiama Ossezia del sud dove c'era una forte componente filo russa è già scoppiata una guerra in Ossezia del sud ma appunto nel 2008 scoppia la cosiddetta seconda guerra dell'Ossezia con la Russia che invade sostanzialmente prendendo a pretesto il fatto che lì ci sono dei filo russi che vorrebbero stare con la Russia e i georgiani non glielo permettono la Russia invaria la Georgia di fatto occupa questo Ossezia del sud facendo un po' le prove generali di quello che poi avverrà in Crimea e in Ucraina tra l'altro su questa politica aggressiva di Putin relativamente ai paesi inizialmente un po' più lontani dell'Europa perché guardate la Cicenia è un po' lontana dell'Europa la Georgia che pure sta tentando entrare l'Europa è in realtà un po' lontana dall'Europa su questa politica aggressiva l'Europa ha chiuso un occhio anche due per molto tempo ha cercato a lungo di trasformare la Russia in un partner importante commerciale è stata una scelta politica dell'Unione Europea ma in particolare della Germania di Angela Merkel quando era cancelliera era famosa per aver incontrato molte volte Putin e aver cercato degli accordi non solo la Germania ma anche l'Italia soprattutto l'Italia di Berlusconi sapete che quando Berlusconi era Presidente del Consiglio si professava ed era amico intimo e fraterno di Putin si trovavano spesso andavano a fare le vacanze assieme eccetera questo ha fatto sì che alcuni paesi europei in particolare Germania e Italia soprattutto si siano in certo momento legati fortemente alla Russia di Putin dando un appoggio politico anche a questa Russia cercando di portarla anche nel mondo occidentale facendola partecipare al G8 poi allargato facendoci accordi eccetera in cambio avendo anche gas a prezzi abbastanza favorevoli però anche legandosi molto al gas russo l'abbiamo visto in questi anni di guerra con l'Ucraina che la Germania e l'Italia in particolare prendevano praticamente tutto il gas che prendevano lo prendevano solo dalla Russia poi la Germania aveva tutto l'affare Nord Stream e compagnia bella quindi scelte che nell'ottica dei paesi europei devono servire ad avvicinare Putin alla democrazia un po' alla volta diciamo che questa politica aggressiva di Putin si sarebbe calmata si sperava questo che Putin avrebbe smesso di fare le guerre che Putin avrebbe fatto tornare la Russia a una forma più democratica pura in realtà non è avvenuto perché in realtà anche negli anni successivi intanto l'occupazione dell'Ossense del Sud ma poi tra il 2014 e il 2015 è stata anche tutta la questione dell'Ucraina questa volta non più verso l'Asia ma più propriamente verso l'Europa cosa è successo in Ucraina vi metto un link in descrizione per la storia dei rapporti tra Russia e Ucraina l'avevo fatto un video che ho fatto quando stava per scoppiare la guerra poi è scoppiata effettivamente ma è ancora valido cosa è successo tra il 2014 e il 2015 un po' quello che era successo in una strada del Sud un po' quello che era successo in Cecenia cioè in Ucraina c'erano forti componenti filorusse perché l'Ucraina è un paese con zone più filorusse zone più invece lontane la Russia più vicina all'Europa e anche la popolazione un po' divisa sfruttando soprattutto i filorussi della regione più di confine cioè del Donbass la Russia ha di fatto sostenuto foraggiato una guerra civile interna tra i separatisti del Donbass e lo stato ucraino e ha anche occupato la Crimea come sapete quella penisola vi mostro anche una cartina che si affaccia sul Mar Nero importante strategicamente che era stata russa poi era diventata Ucraina dove vivono anche una parte di russi e una parte di ucraini una operazione che è stata condannata dalla comunità internazionale perché è di fatto illegale senza nessuna validità legale che però una parte della comunità internazionale per il momento diciamo così ha accettato su cui ha chiuso un occhio non è voluta fare una gran questione di questa faccenda della Crimea e del Donbass questa situazione è durata a lungo tra l'altro Putin ha continuato a esercitare un potere interno molto repressivo c'è il famoso caso di Navalny oppositore che è stato condannato al carcere con motivazioni che moltissimi ritengono pretestuose con accuse che sembrano più che altro politiche per evitare che un oppositore possa fare vera campagna contro Putin Putin poi ha appoggiato Lukashenko un dittatore in Belorussia per averlo vicino a sé insomma ne ha fatte parecchie Putin e penso che molte già le conosciate fino a quando soprattutto negli ultimi anni l'atteggiamento di Putin è diventato ancora più aggressivo di prima un po' perché si è spostato dall'Asia verso l'Europa l'occupazione della Crimea il foraggiare la guerra del Donbass ha fatto rendere evidente che Putin non era interessato solo alle ex repubbliche asiatiche ma anche voleva spingersi verso l'Europa e questo preoccupa non solo l'Ucraina ma anche i paesi limitrofi e anche le repubbliche baltiche esterne elettorne elettorne ha iniziato a preoccupare recentemente Finlandia Svezia Polonia e così via ma poi Putin è stato anche accusato di ingerenze nelle politiche interne dei paesi occidentali perché questa strategia è diventata una strategia di destabilizzazione dell'ordine costituito Putin da tempo dopo essere stato vicino ad allinearsi agli Stati Uniti e all'Europa aver fatto conferenze incontri eccetera a un certo punto ha rotto quell'Europa e gli Stati Uniti creando una grande tensione soprattutto durante la presidenza di Obama negli Stati Uniti Obama e Putin non si amavano particolarmente e questo ha portato queste sono le accuse ma pare ci sia anche una certa parte di verità i servizi segreti russi a fare campagne di disinformazione nel mondo occidentale negli Stati Uniti e in Europa per favorire candidati nelle elezioni non dico filorussi perché magari non sono filorussi ma sicuramente più isolazionisti che non vogliono interferire con gli affari della Russia ad esempio c'è stata una forte accusa al governo russo di aver lavorato attivamente per diciamo così rendere più difficile la candidatura di Hillary Clinton quando era candidata alla presidenza della Repubblica Americana nel 2016 e favorire invece la scesa di Trump non perché Trump fosse amico di Putin di passare ma perché Trump aveva una politica estera che diceva quello che fa Putin non mi importa l'Europa dell'Est non mi importa quindi molto più isolazionista e a Putin questo andava molto bene mentre la Clinton aveva una politica estera molto più attiva molto più ingerente nell'Europa dell'Est e quindi per Putin era vantaggio che vincesse Trump effettivamente Trump ha vinto ed effettivamente però i servizi segreti russi hanno diramato informazioni segrete insomma ci hanno messo nel loro e sospetti di ingerenze russe si sono viste anche in Italia anche in Germania anche in altre elezioni in giro per il mondo segno che c'è sì una guerra in Ucraina che c'è adesso ma ci sono anche varie forme di contrasto conflitto più o meno sporco più o meno attivo più o meno esplicitato con cui Putin sta cercando di guadagnarsi un certo margine di manovra a un certo territorio l'ultimo caso è quello del 2022 come ben sapete perché ormai è attualità e questione dei giorni nostri dopo l'occupazione della Crimea dopo questa guerra del Donbass Putin ha deciso di invadere l'Ucraina direttamente nonostante tutti i paesi europei gli abbiano detto non farlo nonostante gli Stati Uniti gli abbiano detto non farlo tra l'altro Stati Uniti dove era da poco ritornato al potere il partito democratico con Biden e Putin ha fatto lo stesso ha invaso l'Ucraina con l'idea di sconfiggerla rapidamente hanno puntato subito nei primi giorni su Kiev con l'idea di far fuori il governo e impiantare un governo fantoccio filo russo l'operazione l'operazione è andata male nel senso che gli ucraini hanno dimostrato una resistenza in attesa da parte dei russi e la guerra si è trasformata alla guerra a Lambo come doveva essere in guerra di lungo termine con l'Ucraina che è stata aiutata e sostenuta dai paesi occidentali con l'embargo forme di embargo economico alla Russia che poi hanno funzionato fino a un certo punto però un po' hanno funzionato ma non quanto pareva e una guerra che si è trasformata quindi in una guerra di lungo termine bisogna dire che l'impressione generale è che questa volta Putin non sia andata bene come era andata bene invece in Ossezia del Sud come era andata bene in Cecenia come sembrava poter andare bene in altre zone come era andata bene in Crimea eccetera perché? perché stavolta forse Putin ha fatto il passo più lungo della gamba viene da dire perché ormai questo atteggiamento di Putin finché era rivolto lontano all'Europa si poteva chiudere un occhio almeno qualcuno chiudeva un occhio quando è arrivato in Europa quelli che prima chiudevano gli occhi non li hanno più voluti chiudere perché questo destabilizza ovviamente la regione e la situazione ora Putin bisognerà vedere come ne esce da questa guerra ci vorrà del tempo per capirlo sicuramente sembra un po' innebolito rispetto a prima anche perché anche se non uscisse benino vedremo quanto in ogni caso si sta rendendo abbastanza subordinato nei confronti della Cina soprattutto che è l'unico paese che può garantire alla Russia un certo margine una certa protezione la Cina è sicuramente uno degli attori che ne esce più rafforzato da questa situazione e la Russia sembra una potenza destinata a un ruolo non dico di ultimo piano perché rimane una potenza aggressiva e se uscirà dall'Ucraina non proprio sconfitta rimarrà comunque un paese con mire con mire geopolitiche forti ma non di prima fascia l'impressione in generale è che le due grandi potenze che si misureranno nei prossimi vent'anni o trent'anni in futuro per il controllo dell'economia nel mondo sono Stati Uniti e Cina la Russia tentava di diventare un terzo polo ma per come sta andando la guerra in Ucraina forse non ci riuscirà la mia impressione è che non ci riuscirà ma ce lo dirà solo il tempo l'Europa da tempo mira a diventare il terzo polo ma non ci sta riuscendo da tempo insomma bisognerà vedere cosa accadrà certo la guerra si sta rivelando lunga ne parleremo quando sarà finita e vedremo gli effetti una guerra comunque problematica che ha messo più in crisi la forza di Putin anche all'interno della Russia come avete notato in questi ultimi mesi sono state grandi lotte interne tra l'esercito le truppe mercenarie lotte di potere interne che non sembrano aver toccato Putin per ora però sicuramente il sistema russo sembra molto meno monolitico di prima molto meno coeso di prima e sotto sotto non è detto che non ci sia un'opposizione anche forte a Putin poi da qui a dire che Putin cadrà ce ne passa molto e Putin per come stanno adesso le cose starà ancora a lungo al suo posto forse meno forte di prima ecco questo era quello che volevo dirvi per farvi un po' il punto sulla Russia dal 1991 ad oggi è stato un video anche abbastanza lungo spero però chiaro ci sono molte cose da dire ho dovuto fare una selezione ovviamente ma spero vi avevi dato un po' la panoramica generale della questione vi ricordo come sempre che in descrizione trovate i titoli che sono comparsi qui mi avete spiegato e trovate i link a tutti i dati di video che ho citato e in più i link ai social network e alla newsletter settimana gratuita se volete rimanere in contatto sapere quando escono i video e altre iniziative poi sempre in descrizione trovate lo ricordo sempre anche i modi per sostenere questo progetto se vi piace quello che faccio volete darmi una mano lì ci sono le modalità tramite libri che comprate e provvedano la mano anche a noi videocorsi merchandising donazioni oppure la cosa che consiglio di più è l'abbonamento al canale youtube c'è un tasto proprio abbonati vi chiede pochi euro al mese decidete voi poi la taglia in cambio youtube il canale vi offre qualche avvertaggio esclusivo come dirette riservate come una chat telegram riservata video in anteprima dispense di filosofia e altre cose ancora sondaggi utili per capire quali video fare prima quali dopo cose di questo genere dateci un'occhiata ho finito ci vediamo presto per altri video di storia ma anche di filosofia ed educazione civica ciao